Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo vlog oggi in questo vlog vi volevo ringraziare per i 2000 passi iscritti ovviamente già lo sapete mi volevo anche scusare se non ho fatto ultimamente video però ero un poco impreparato un poco per cazzi miei e vi volevo annunciare che ho acquisito una nuova webcam e fare nuovi video infatti sto registrando quella webcam stessa mi piace molto sembra uno dei giornalisti bene detto ciò vi volevo dire che a breve continuerò la serie farò molte molti molti vlog eccetera 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 perché ho acquisito questa nuova webcam soprattutto vi principalmente vi volevo scusare quindi ragazzi credo che sta durando più di un minuto quasi quindi che dire questo telefono è una vera merda Alexi è una merda vabbè detto ciò vi volevo ringraziare scusami se non ho fatto video e rincomincerò molto presto voglio dire sempre di mettere mi piace ai miei video se non siete ancora iscritti iscrivetevi e bye bye